Oh, spacca, eh! Distruggeli! Fagli il culo! Fagli il culo! Spacca tutto! Spacca tutto! Forse non lo sapete, o forse sì. È proprio questo che si dice agli artisti, fra artisti, prima di entrare in scena. Spacca! Allora, io fin da ragazzo, quando ho iniziato a far teatro, ho pensato che dovessi entrare con l'armatura, con proprio l'elmo, tutto bardato, con le armi in mano, perché dovevo spaccare, entrare, arrivare davanti al mio pubblico, e arrivare... Poi ho anche scoperto che il termine spaccare viene dal longobardo. Span! Span! Già ai longobardi non viene proprio la dolcezza. Poi span è proprio una roba che dice, sti, span! Significa infatti fendere. E allora, allora, ho pensato anche etimologicamente. Mi dicono di entrare in scena e spaccare, rompere, andare dal mio pubblico con le armi, bardato! Ragazzi, è un combattimento, serio! Bisogna vincere! Un combattimento col pubblico? Andando avanti con le repliche, mi è venuto il dubbio che questa idea non fosse esattamente l'idea giusta per funzionare in scena. Tanto più che più in realtà mi spogliavo dell'armatura, della mia rigidità, delle protezioni, più funzionava. Più lo spettacolo funzionava, più tollevo elmi, armature, più ero disponibile. Nei confronti del pubblico, meglio, lo show andava. Come mai? Come mai? Ebbene, perché ho scoperto con le repliche che quello che funziona in scena non è essere nemici del pubblico, spaccare. No, 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 no! E' il contrario, entrare e cucire, unire le energie, cucire le emozioni del pubblico, le energie del pubblico con la tua emozione, creare insieme, collaborando, la magia del teatro. Ecco, ma allora perché si dice spacca? Forse questo è un campanello d'allarme che ci rivela lo spirito del tempo, di questo tempo, un tempo competitivo, un tempo dove bisogna spaccare, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista, non so, educativo, anche ai bambini, gli si insegna, forse ai ragazzini, gli si insegna, devi essere il migliore, devi arrivare a scuola, devi essere il migliore, devi spaccare, così lui cerca in tutti i modi, anche magari con qualche sotterfugio di essere il migliore, non collaborando con gli altri della classe, no, perché non serve, è negativo, bisogna essere i migliori da soli, quindi per essere i migliori bisogna spaccare, anche a scuola, anche a scuola, forse così anche a scuola, anche dal punto di vista educativo, ah beh, ma siamo sicuri che questo porti successo, anche successo, non solo che sia corretto, ma che porti successo. Allora, mi è venuto un esempio in mente, un esempio di un uomo che nella storia ha avuto certo successo, Raffaello Sanzio. Vi racconto questa storia, Raffaello viene chiamato a Roma, al centro del mondo, nel 1508, quando ha meno di trent'anni e deve dipingere le stanze vaticane, lo chiama un papa straordinario, Giulio II. Ecco, ma non è il solo, non è il solo che deve dipingere quelle stanze, ci sono altri pittori, c'è Perugino, c'è il Bramantino, c'è Sodoma, un nome e una garanzia, e altri pittori. E cosa fa, che avevano già iniziato tra l'altro a frescare, che cosa fa Giulio II? Vede i primi affreschi di Raffaello e dice a tutti gli altri, via tutti fuori, fuori, via, 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 fuori da qui, no, 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 carini per carità, ma quello di Raffaello, e allora sarà Raffaello Sanzio a ridipingere tutto. Raffaello a quel punto poteva dire, ah ho vinto, ho vinto io, ho spaccato, via tutti, date via, adesso dipingo tutto io, da solo, ho vinto. Invece no, la sua grande forza, il suo grande talento umano è quello di lasciare alcuni dei dipinti che avevano fatto gli altri e non solo chiamarli, chiamarli a collaborare con lui in questa impresa e riesce in questa impresa proprio perché forma una bottega di una cinquantina di persone e non spaccando quindi, ma collaborando, che ha questo successo incredibile e che ancora oggi ammiriamo. Ebbene mi direte voi sì, va bene, va bene, l'arte, 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 ma la guerra almeno si vince spaccando, non mi dirai che la guerra si vince cucendo, e invece vado a scoprire, vado a scoprire che la guerra si vince anche cucendo, ma allora a leggere quello che succede, quello che è successo con Gandhi. Gandhi riesce a ottenere l'indipendenza dell'India cucendo in che senso? Nel senso che gli viene un'idea, dice noi ci serviamo dell'industria tessile inglese, gli inglesi sono così forti perché hanno un'industria tessile così forte che noi compriamo i vestiti da loro, e allora no, sai cosa facciamo noi? Dice agli altri indiani, adesso noi collaboriamo insieme e ci cucciamo i vestiti per conto nostro, non compriamo più da loro, boicottiamo, riesce, e riesce, e ci riesce cucendo, non stando fermo, non è che la non violenza è il suo fermo, no, 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 agisce, collabora con gli altri e così vince, quindi si può vincere anche la guerra cucendo, ma ragazzi, non spaccando, ma cucendo, tanto che la prima bandiera indiana ha in mezzo un arcolaio, quindi proprio il simbolo del cucire, del tessere, del tessere. Ecco, forse il principio su cui ci stiamo basando è sbagliato allora quello della competizione a tutti i costi, non porta neanche al successo? Questo è un dubbio, non lo so, forse stiamo sbagliando tutto? È un dubbio, è un dubbio. Se addirittura nell'arte, nell'arte che proprio dal latino ars artis significava l'abilità materiale e spirituale mirata, lo sto leggendo, a progettare o costruire qualcosa. Ecco, l'arte significa già etimologicamente cioè progettare e costruire. E nell'arte si dice spacca? Come vuoi? Costruire? Spaccando? Allora, pensiamo che cosa succede ovviamente dal punto di vista economico, se addirittura nell'arte si deve spaccare. C'è una bellissima citazione di un premio Nobel, Cotzi, che dice così, e con questo vorrei lasciarvi, dice, perché il mondo, lo leggo anche qui, ho un gobboli, perché il mondo dovrebbe essere un'arena in cui si scontrano i gladiatori piuttosto che, per esempio, un industrioso alveare dove tutti collaborano? Vorrei lasciarvi con questa domanda e con la domanda, non ho la risposta neanche io, ci mancherebbe, ma stiamo sbagliando tutto? Nel dubbio, nel dubbio, quando dovrò augurare ad un artista una buona performance, non gli dirò spacca, ma gli dirò cuci. Grazie a tutti.